Si ritrae il Grisby, si ritrae Let Me Win Off, non è a rete la vigna S. Staccano in pochi, in particolare Lussuria Griff che prova a contenere Lorenz Caff che insista, centropista Loretta V. Lorenz Caff passa su Lussuria Griff, perlomeno cerca di farlo quando si imbocca la prima curva, i 200 in 13.4. Lorenz Caff adesso battistrada nei confronti di Lussuria Griff, ha trovato posto alla corda Loretta V avanti alla Polak. Si vanno a completare i primi 400, Lorenz Caff li passa in un veloce 28.3, ha speso per prendere la testa su Lussuria Griff in terza posizione. Loretta V, quindi la Polak e la Dino, avanza Let Me Win Off anticipato prontamente dalla Polak che dopo 500 metri in terza pariglia le Grisby. I 600 di Lorenz Caff se ne vanno in 44.3, c'è 31 dopo lo strappo, ha ripreso in mano Andrea Farolfi. Adesso arriva la Polak, quando si imbocca la seconda curva si trascina Let Me Win Off e le Grisby, seconda sotto è Lussuria Griff avanti a Loretta V. Si arriva a metà gara con parziale in 31.5, fa 59.8 per Lorenz Caff e la Polak, quindi Lussuria Griff e Let Me Win Off. Situazione a coppie con otto concorrenti in pariglia. Si va di fronte con la Polak che insiste su Lorenz Caff che cerca di risparmiare il più possibile il chilometro in 1.15.2. 38 dal palo su una metà retta opposta, Lorenz e Lappo in dibattito aperto avanti a Lussuria. Let Me Win Off, questo è il quartetto che si giocherà presumibilmente la vittoria. Lappo si fa parecchio pressante ai lati di Lorenz, 29.3 il parziale, 1.29.1 i tre quarti di miglio. Lappo ha coperto Lorenz, quindi Lussuria per il momento non interferisce Let Me Win, che però adesso si ravvicina e sposa addirittura in terza ruota. L'ingresso della retta d'arrivo con Lorenz Caff di dentro. La Polak a centro pista, ancora più a largo Let Me Win Off. Lorenz Caff si è liberato di La Polak, adesso arriva Let Me Win, ma Lorenz Caff due buone di margine nei confronti di Let Me Win. Quindi dentro Lussuria Grif, poi la Polak, Lorenz Caff viene a vincere facile e facile, saldo leader da un capo all'altro. 29 anche per gli ultimi 4, fa 43.3 per gli ultimi 6, 1.58.2, poi il tempo totale 1.13.9, la media al chilometro. Facile da leader Lorenz Caff con Andrea Carolfi, il training di Mauro Baroncini, i colori della Frenze Frenze. La quota al totalizzatore da netti favoriti di 1.66. Grazie. 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 Grazie.